Non so perché tenevi le mani così, tipo il mio tesoro o qualcosa Togliamo Bottiglia dell'acqua Due Due bicchieri, sì Che due bicchieri? C'è la mea, yeah Il T-Rex Ma sei serio? Sai che sto ancora registrando? Ciao a tutti da Angliterrone E da mio cognato Ciao ragazzi Che purtroppo ha inseminato mia sorella E quindi ci ritroviamo a essere parenti Proprio per questo Oggi faremo una degustazione Un po' particolare Perché avendo un nipote bellissimo Che giustamente è preso tutto da me Proveremo tutti gli omogenizzati della Plasmon Che ho trovato a Bologna Sarà anche un po' diversa la nostra degustazione Perché ci esprimeremo come fanno i neonati Quindi senza parlare Solo con le smorfie E alla fine noi stileremo Una lista Dove ci segneremo I top 3 E i peggiori 3 Abbiamo delle file Di verdure Poi abbiamo pesce Poi abbiamo formaggi Carne E frutti E frutti e dolci Quindi ne abbiamo un bel po' da provare Beh, iniziamo subito Vamos Carota Ceci con zucca Eh, buone Broccoli Carote, patate e zucchine Broccoli Affumicati Quindi Verdure Viste Cavofiore Ma che stai cagando? Ma che hai messo? È diarrea di gatto No La cosa è buona Lenticchia con carote Zucca Beccati Alleluia Uprima Legumi verdi Vi senti le zucchine? Questa è una bomba Buonissima Dovrei assaggiarlo anch'io Piselli Zucchine Talua da mezzo Oh Olì Eh, che buonissima Fagioli e carote Forbacino fuso con parmigiano leggero A me piace È buono È buono Un formaggino imparato Dai È molto aggiunto Formaggino fuso E prosciutto Formaggino fuso E mozzarella Salmone con patate Orpaggino fuso Paggino fuso Paggino fuso Io non fuso molto pelle Orata con patate Spigola Con patate Fai anche il cucchiaino Quello grosso Sì dai Perfano Potendo Compatate Trovate Companate Mi piace più Trovato Nasello Compatate Tacchino Non ce l'ho con patate Ma che buono il tacchino Prosciutto? E' fermato, te Eh sì, sì, sì Vitello e presciutto Agnellino Toh, perché di questo? Crisio e cavallo Beh Non mi asceglie tanto Beh Beh Facci verso il cavallo Pollo le vitello Pollo Vitellino Mal sepollo Vitellino Ma promagnie Banane e mela Buono Buono faccio due cazzo mela 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 pesca e mela quattro frutti mele a lui yogurt e banana pera e yogurt guarda la poca è tutta gelatinosa questo è buono ma io credo che questa è la cabana banana banana mela biscotti e miele yogurt e biscotto ebbene sì siamo arrivati finalmente alla fine la nostra classifica personale per me i miei peggiori sono stati ceci con zucca spicola e patate e coniglio quindi se volete bene ai vostri bambini non dateli queste allora per me invece il peggiori che sono spicola platessa e broccoli mentre i top 3 ovviamente per solidarietà la zucca perchè è l'unica più decente dei salati mela e poi parane mela che si vola proprio buonissima piselli e zucchine buonissimo mela e pesca e mela è stato bello condividere forse non del tutto con voi questa degustazione perchè sono stati momenti in cui pensavo di non farcela pensavo di non arrivare la domani lasciate un like commentate quando vedete fate quello che vi pare da Angri Terrone e da Nicola è tutto buonanotte ciao ragazzi grazie grazie ciao